Nonostante le incomprensioni accumulate, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto al collega russo Vladimir Putin di voler andare avanti con lui su temi quali il nucleare iraniano, la Siria e l'Ucraina, lanciando un appello al leader di Mosca alla responsabilità legata al ruolo rafforzato sulla scena internazionale. Un anno dopo il loro primo incontro a Versailles, i due capi di Stato si sono incontrati per oltre tre ore giovedì a Palazzo Constantin, nei pressi di San Pietroburgo. Il nostro conto di avere un internazion in tete a tete, poi un internazion in tete, che ha stato come sempre stato il caso tra noi, è stato molto chiaro e franc. Io sono molto lucide sulle incompréhensioni che hanno potuto essere e si stanno tra noi. Una parte di queste incompréhension, devo dire anche l'essentiel, non è non imputabile. Da parte sua Putin ha affermato La Francia è il nostro tradizionale, il nostro partner, con le relazioni che ci interagiamo. Stiamo attivati a sviluppare, supportiamo con il signor Presidente l'intensivo politico di dialogo di politica e, molto часто, abbiniamo i miei e le sovrazie a telefono. Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Macron è accompagnato da un'imponente delegazione di imprenditori a segnalare la volontà di Parigi di continuare a fare affari con Mosca, nonostante i rapporti difficili. Giovedì il colosso energetico francese Total ha firmato l'ingresso in un progetto gasiero nell'Artico da 2,5 miliardi di dollari.